Si chiama Giovani sul Tusciano, il progetto inserito nell'ambito di Benessere Giovani, iniziativa finanziata per 80.000 euro dalla regione Campania, è rivolta a 30 under 35 senza lavoro del territorio di Olevano sul Tusciano. A ciò si aggiungerà il nuovo progetto legato al servizio civile, che partirà entro il prossimo gennaio. A spiegare gli obiettivi dell'amministrazione, l'assessore alle politiche giovanili, Davide Zecca. Il progetto si chiamerà Giovani sul Tusciano, vedrà coinvolti 30 giovani che sarebbero in IT, quindi giovani inoccupati, senza lavoro e senza percorso di studio. A breve uscirà la proroga del bando che abbiamo emanato a giugno per selezionare i 30 giovani e a settembre tutti in aula per l'avvio di Benessere Giovani. Un'altra novità importante è rappresentata dal servizio civile, ci può dire qualcosa? Sì, la nostra amministrazione negli 5 anni, nello scorso mandato, ha puntato sul servizio civile e abbiamo fatto un ottimo investimento. Abbiamo ripuntato ancora quest'anno con 12 volontari in modo ufficioso, quindi a gennaio avremo 12 volontari e alla Scania di ottobre progetteremo per 16 volontari. La novità è che ci sarà un nuovo progetto, Olena sul Tusciano, sorgente di meraviglia, quindi un progetto turistico che vedrà i 6 volontari con lo sportello di Nerano ad accogliere, i turisti che arriveranno ad Olevano e a supportare le associazioni e le organizzazioni di manifestazioni. Nel prossimo anno investiremo ancora di più progettando per 16 volontari, quindi i progetti saranno ben non due ma tre. Avremo 6 volontari per Tusciano, 6 volontari per sorgente di meraviglia e in più 4 volontari con progetto sociale che andranno a fare assistenza agli anziani e ai disabili e faranno dopo scuola sociale, mio altro sogno che ho sempre avuto, quindi daranno supporto a bambini con ISE pari a zero per aiutarli a fare i compiti a scuola appunto per aiutarli in questo senso. Un altro grande evento, quello che stiamo progettando con le associazioni del territorio e con il forum dei giovani, con l'aiuto di associazioni giovanili, è quello del 13 ottobre. Stiamo organizzando una grande giornata a carattere regionale con il supporto del forum dei giovani regionali e con il forum dei giovani provinciali. Una giornata sul dialogo strutturato dove i tre tavoli tematici che affronteremo sono sull'ambiente, sulle pari opportunità e sulle politiche giovanili. Sarà con noi un assessore regionale, sarà con noi il presidente del forum regionale, saranno con noi tante persone esperte in questi settori e magari lanciare una proposta nuova in regione Campania affinché finanzi le nostre idee. Quindi già abbiamo avuto un grande protagonismo nelle politiche giovanili nella scorsa amministrazione e partiamo con questo piede, vogliamo essere ancora più protagonisti in provincia di Salerno e perché no in regione Campania.